Questo è un paese del Vulture, un paese come tanti altri, con il suo parroco, la casa di riposo per gli anziani e il comitato per le feste patronali. Ma nel Vulture c'è una cosa che si trova solo qui, le sorgenti dell'acqua Lilia, leggera, di origine vulcanica, un'acqua che ti aiuta a sentirti giovane.